Nella sala operatore dell'ospedale d'eccellenza hanno un cellulettino che possa reggere 200 kg e così un cinquantenne di San Pietro Vernotico viene trasferito da Brindisi a Foggia. È accaduto martedì pomeriggio al perrino di Brindisi, quando è giunto in ospedale trasportato dal 118 un uomo di San Pietro Vernotico, al quale è stato diagnosticato una perforazione intestinale. Le sue condizioni erano delicate, anche se non gravi. Dopo un giro tra i diversi reparti, prima in medicina dove non c'erano posti, è stato ricoverato in nefrologia per essere sottoposto ad un intervento. Ma nella sala operatore del perrino lui non è mai entrato, perché i medici hanno temuto che l'uomo, che pesa 200 kg, fosse troppo pesante per essere retto dal lettino. L'impossibilità è stata poi confermata anche da un tecnico. Il letto può reggere sino a 135 kg, c'è solo un altro letto in neurochirurgia per un massimo di 150. I medici hanno cercato un posto negli ospedali vicini, ma nel Lecce e nei Bari sono dotati di letti simili, spiega la direttrice sanitaria Graziella Di Bello. Abbiamo chiamato sino a Napoli. E così alla fine il 50enne è stato trasportato nell'ospedale di Foggia, l'unico da avere un posto disponibile nell'immediato, tale da sopportare 200 kg. L'uomo è stato operato ed ora fortunatamente sta bene.